giornata fiacca oggi collega non basta nessuno qua non so gli ordini quali sono? dobbiamo stare qua rispettiamo gli ordini e fermoci ubriaco? ubriaco ritiriamo la patente? ritiriamo la patente e la prossima! blocco qua, blocco, piano piano, piano, ehi, fermo, ferma, ferma, ferma e che cosa? programma, guarda, guarda come stai combinando chiami, chiami, chiami come stai è giovane, forza, scendere forza, sveglia eh spegni il motore là, spegni tutto scendi, 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 lascia la sigaretta spegni la sigaretta vieni da questa parte guarda qui chiami, chiami, chiami perché a me è giovane, allegro forza ti dobbiamo ritirare la patente come? a me la patente a me ti dobbiamo ritirare la patente è che a noi non ho capito a noi ce l'avete con me e scusate ieri me l'ho data e già l'avete persa come ce l'ha già data la patente? a me no e l'abbiamo persa la serba l'hanno chiesta in casa l'ho data l'avete persa l'avete persa e l'abbiamo persa eh sì sicuramente beh quando riesci a tenere i soldi nelle cose ma no a me no mi dispiace non ci fa così no alla fiducia dobbiamo ritirare la patente l'ho data si e poi l'avete persa vabbè fate i film e no non ci avete visto non ci avete visto non ci avete visto vanno detto allora 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 datemi documenti non si documenti ma che non esiste però non scusate la denuncia non faccio la denuncia io vi denuncia la patente per denuncia no che denuncia dammi il portafol dammi il portafol me la vecchia portatevi non ci avete visto va bene non ci avete visto ehi gentilissimi gentilissimi scusate ma avete visto me? no ma uno deve rispettare perché si ha ragione ha ragione però con un fotocopo non è giusto non è giusto non è giusto non è giusto è un fotocopo 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 è un fotocopo